Posso dire una cosa, Ciancielino non è neanche un pentito, perché lui parla di sentiti dire, sentiti dire, no, nel senso anche tecnico, lui è hersey, dicono la giustizia americana, non è hersey, o ha degli altri riscontri, o non è attendibile. Scusa di Ciancielino, è semplicissimo, quelle cose che lui dice, che gli diceva il babbo, se fossero vere, il babbo le avrebbe dette, ma proprio non ci sono dubbi su queste, cose gravissime e importantissime, il suo babbo non le avrebbe dichiarate e denunziate, invece è stato dito, ma come fai tu a essere la voce di un morto, che tra l'altro non c'entra niente con figlio, perché questo lo sanno tutti, Massimo non era, diciamo così, il migliore della famiglia, ma Palermo lo sanno tutti, c'è una cosa notoria, perché non fosse un morto. Perché la sorella si è dissociata. Sì, ma anche se è un fratello che mi so che è a Milano, di una persona normale, eccetera, tutti, chi l'ha conosciuto dice che questo è un domani, quindi già parliamo da questo. Giudici di fatto non hanno dato questo giudizio, ma di fatto non l'hanno messo. No, ma è così, nonostante questo, però il sistema è mediato, siamo anche i suoi giornalisti. Il giornalista che fa il libro con lui, le televisioni che lo invitano, il Santoro che ne fa una sorta di icona anche qui, ma siamo impazziti, questo è uno che dice, ma dove stiamo, dove viviamo? Senta, mettiamo un pagino. No, però Anna mi ha detto, sulla cosa dei pentiti che invece complottavano contro di lei, su, si parla alcuni giornali, anche lei, devo dire, parla di Di Pietro, dell'Italia di Valore, su questo possiamo aggiungere qualcosa? No, no, non lo so, io non... Sono ipotesi, sono ipotesi. Loro hanno annunciato, quindi, Poirelli, eccetera, Orlando... Sì, guarda, io non lo so, non lo so. Siamo nella... cioè, resta però il fatto che merita questa cosa di essere... Di essere approfondita. Può darsi che siano tutte varie, queste e quelle, non lo so, non voglio accusare nessuno. No, ok, ok, però rimane questo fatto. Senta, questa domanda gliela voglio fare sulla comunicazione. Il Presidente Berlusconi ha detto una cosa, secondo me, non campata per aria, cioè, ha detto, la mafia italiana è al sesto posto, cioè è una mafia, per carità, importante, nessuno lo disconosce, tant'è che il governo sta facendo da presti, di ingrandita, di mafia... Tra l'altro, leggendo i vari articoli, lei è associato, mi è un po' da... perché dice, ok, è il capo di tutto, ha l'andante, ha la sacra colore, ha la mafia, lei è il capo di tutto, mi banca, la comoda, esatto. Vabbè, detto questo, il nostro Premier ha detto, eh, sì, la mafia c'è, e la combattiamo, tant'è che arrestiamo, non è che poi stiamo ai fatti, anche qua, se no, ma è che in questo periodo sono stati fatti arresti, eccetera. Detto questo, forse non è proprio il caso che identifichiamo il nostro Paese, se l'ho capito il messaggio del Premier, solo con quello, cerchiamo anche di dare un messaggio positivo. Quindi, lui ha detto, non esageriamo anche con le fiction, con certi libri, eccetera. Siccome questo un po' l'avevamo anche detto noi, tempo fa, cioè, in effetti, il Premier ha ripetuto quello che... Cosa pensa lei di questo, anche riferito a un moda? Ah, questo... Ma, io penso che abbia ragione di tutti e due, sia Berlusconi che Saviano. Perché Saviano fa un'opera sicuramente positiva, no? Perché ha scritto cose più giuste, fa cose anche belle. La Mondarone, che è un'azienda di Berlusconi, giustamente ha stampato il libro, ha diffuso e ne ha venduto... Milioni di milioni di copie, quindi tutto bene. Berlusconi dice una cosa quasi banale, cioè, il peccato è che la nostra immagine, il Paese, all'estero, è conosciuta per la più opera, per queste cose qua. Ha detto una cosa, direi quasi, detto banale, no? Però appunto ciò che dice Berlusconi, che era demolizzato e quegli altri dicevano. Però posso dirvi una cosa, a nessuno fa piacere essere identificato con la mafia, cioè, è giusto che ci siano, ma non possono essere quelle cose che ci siano. Noi abbiamo anche Libia, abbiamo l'arte, abbiamo il cibo, per carità, abbiamo il turismo, abbiamo... Comunque il buon vivere siamo ancora noi, alla fine, cioè, ci hanno tolto tutto, ma lo stile lo diamo noi. Allora, anche gli intellettuali, cioè, diamo anche un contributo a cambiare questo percepito. Lei quando va all'estero, che impressione ha? Che l'Italia, sull'immagine dell'Italia, cioè, siamo così associati? No, no. Per fortuna no. No, per fortuna no. Saviano è stato invitato dagli intellettuali di sinistra a non lasciare la Mondadori, e lui, al momento, se ne abbiamo guardato, che si trova bene, si trova bene perché la libertà di scrivere, ma non è che di scrivere, ma già questo fatto esclude qualsiasi malignità nei confronti di quello che ha detto con gli scordi, perché va preso per quello che è, ha detto tutto il peccato, che con tutte queste produzioni qua, trasferiscono all'estero, un'immagine sbagliata del paese, che questa è una componente. Allora, benissimo, facciamo allora altre fiction, sulla storia di Michelangelo, sul nostro bene del paese, sulla nostra arte, sulla nostra cultura, Raffaello, però questo deve essere fatto bene e deve anche avere un pubblico, un'audience, mentre invece che colpa ne ha Berlusconi, che cosa diciamo tutti noi, se l'audience e l'interesse ricada sui fatti di criminalità, che la gente assente di queste cose, vuole sentire queste cose qua, più in torno di rinascimento, no? Sì, però, scusi, una spy story ambientata nel mio rinascimento, può funzionare, chi ha detto di no? Hanno fatto lei le fiction sui Templari, su cos'è, Dan Brown, cioè, voglio dire, si può anche calare il contenuto culturale in un contesto animato, lo stesso Umberto Eco, che citava lei prima, il nome della rosa, alla fine è un giallo, fatto bene, è un giallo, quindi ha comunque, fatto conoscere delle cose del Medioevo, anche al popolo, quindi voglio dire, possiamo, si può anche fare, si può provare. Io vorrei fare tutto, insomma.